Giorgio è una squadra che sta mettendo in campo grandissima determinazione, grandissimo carattere, grandissimo cuore, una doppio abbiamo assistito davvero molto equilibrato contro Cagliari, la vittoria è sfumata davvero di un soffio ma queste ragazze hanno venduto a carissimo prezzo la pelle. Sì assolutamente, purtroppo i doppi col super tiebreak sono sempre così, a Palermo abbiamo vinto un super tiebreak perdendo 9-4 e ora ci troviamo a perdere un doppio sicuramente molto duro, a super tiebreak il secondo si è riusciti a imbroccare un bellissimo set e a vincere il secondo 6-1 e il terzo è sempre una guerra di nervi quindi rimane un po' di amore in bocca perché quando perdi 10-8 ti girano abbastanza le cosiddette scatole però le ragazze hanno fatto tutto il possibile e poi sull'ottopari un errore gratuito però ci sta il tennis è questo e dobbiamo migliorare sulla freddezza sicuramente nei momenti importanti. Anche nei tre singolari grandissimi equilibri. Assolutamente, Cristiana Ferrando ha fatto una partita spettacolare, vinta 7-6 al terzo contro la Mazzola che è una giocatrice fortissima che ha fatto vita internazionale, Anita Bertoloni ha perso 7-5 al terzo, anche lei col vivaio De Soli è stata una partita veramente dura. Anne Schaeffer ha un po' patito oggi contro la loro rumena, ha preso a Cariù e ha perso ma ne mette sempre il cuore oltre l'ostacolo quindi siamo contentissime delle nostre giocatrici nonostante purtroppo il 3-1 sotto di oggi. Un 3-1 che chiaramente non sorride al parque ma può naturalmente dare ancora più grinta, ancora più forza, ancora anche più cattiveria, agonistica per il mesi di ritorno a Caglia. Assolutamente, quello che dico a loro è che ogni partita bisogna pensare che a Cagliari andiamo sicuramente con un 3-1 sotto ma con tanta consapevolezza di essere pari livello con una squadra che ambiva lo scudetto quindi quest'anno purtroppo da matricole abbiamo capito che ci serve un po' più di esperienza quindi speriamo di riuscire a Cagliari a fare il colpaccio, sicuramente sarà dura ma le ragazze come avete visto ci metteranno tutto e poi il risultato del tennis come dice Sinner è secondario, l'importante è che provino a fare il loro massimo e poi se non è quest'anno arriverà nei prossimi anni il nostro obiettivo.